Franco, noi dobbiamo parlare di trattamenti antiparassitari per le malattie delle piante. La prossima settimana è con lo zolfo, con il rame. Buongiorno nonno, buongiorno anche alle nostre comparse. Guardate, rose rosa, rose rosse, rose bianche, ad alberello, ma di tutti i tipi. E incontriamo un amico Mario Rosario, Rizzi e Sonia De Angelis di Lorenzana, Pisa, Erboristi. Attenzione, filmato, si possono raccogliere le rose, i petali, bacche, frutti, tutto. La rosa non è utilizzata soltanto per un utilizzo ornamentale, ma anche per un utilizzo terapeutico e erboristico. E vengono utilizzate delle rose particolari come la rosa damascena, la centifoglia, la rosa moscheta e la canina. Guardate, loro raccoglono qui i petali e tutto raccogliendo. Queste sono delle coltivazioni in Turchia che vengono utilizzate per la raccolta dei fiori che vengono distillati per corrente di vapore e vengono raccolte la mattina. E in Italia perché non lo facciamo pure noi? Si faceva una volta in Calabria, in Puglia, in Turchia, quindi vengono raccolte e poi si vengono distillate per esempio. Questo è molto importante per chi utilizza dei profumi di rosa che sia naturale, non sintetico, quindi che provenga dalle rose per un litro di olio essenziale di rosa ci vogliono mille chili di fiori. Mille chili per fare un litro? Un litro, sì. E costa? 8 milioni al litro. Al produttore, sì. Viene conservato in flacone di vetro, quindi è molto prezioso e l'utilizzo è di un millilitro di olio essenziale che in erboristeria viene circa 50.000 lire. 50.000 lire? E una goccia viene prodotta con 30 boccioli di rosa, una goccia di olio essenziale ha un effetto calmante, antidepressivo, guarisce i dolori dell'anima e del cuore. E del corpo e del cuore perché contro lo stress, la malinconia, delusioni, d'amore, finanziarie, vai, per la pelle secca, anche per la ricostruzione della pelle dopo una ferita, dopo le ustioni. Especialmente la rosa mosqueta. Ecco, che sta preparando lei? Sta preparando una maschera. Una maschera fatta con? Con petali di rosa che abbiamo raccolto le nostre rose in giardino. Che tipo di rosa? Qualsiasi rosa va bene. Qualsiasi rosa, amica? Si raccoglie un po' di petali. Petali. Si aggiunge un pochino di acqua di rose, un po' di olio di mandorle e qualche goccia di olio essenziale, una goccia perché il costo è di olio essenziale. Quindi si miscela, si aggiunge un po' di acqua di rose e si fa una maschera, la facciamo lei? Si fa una maschera. Per che cosa serve? Serve per istituire una pelle vellutata, per togliere le rughe, per distendere il viso. Amici carissimi, cuscini, tante cose, le tisane, si possono preparare veramente? Dei cotti con le rose. Io vi devo lasciare perché avete fino a questi, prima o poi ci allargeranno anche in questo senso. Comunque la rosa, questa è utilizzata per intero, foglie, petali, bacche. Si è un fiore meraviglioso. Salutatemi la flora e la primavera, mi raccomando sempre, buongiorno anche a lei.